ciao ragazzi mr fisher tech as always ragazze ragazze ciao macbook 1466 macbook air mi raccomando ragazzi se li cambiate la pasta termica non mettetela solo sul processore mettetela anche sulla scheda video sembra una cazzata maschic trovato questo con la pasta termica solo sul processore rovedo matti see you